Ciao a tutti ragazzi, sono JK Bish e oggi siamo tornati con un nuovo video di GTA V In questo video vi vorrò far vedere un segreto che si trova alla casa di Trevor Va bene, non è molto un segreto perché molti già lo sanno Ecco qua, Profundo Sandy Shores Andiamo qua Scusate per la luce nel video Va bene, avremo a Sandy Shores e nella roulotte di Trevor Troveremo un coso, una specie, sembra, va bene non so cosa sembra però è un coso grigio E ti esce la scritta Premi Fraccetto a destra O sinistra, non mi ricordo, per sniffare la benzina, guardate Vedete Vedete qua in alto Vi faccio vedere adesso Scusate raga Per sniffare la benzina Per sniffare la benzina Ecco E' quello lì Trevore è svenuto E si ritroverà in un altro luogo A me si trova A me si trova Tante volte si trova qua Sembra che è sul tetto di... di... Cos'è che ha? Mi chiamano Trevor Acciaio Philips O meglio l'avrebbero Dov'è che sei Trevor? Dov'è che siamo? Nooo Guardate raga Un luogo ancora molto strano Vi farò vedere una cosa Scusate Andiamo qua indietro Ci sono gli alieni Vedete qua c'è uno con le tette di fuori Sempre con le tette di fuori c'è Poi due che si... Sembra che si stanno... Che stanno facendo quella cosa Cosa che c'è scritto? Arma Life Happiness Priso Karma Life Bene raga Qua ci troviamo vicino alla casa di Ortega mi sembra Vi consiglio di visitare anche il canale di InfernusBish che è il mio amico Va bene raga questo video si conclude qua Un saluto Oh cacchio No raga Devo far vedere una cosa Quello col quad ha investito Quello che gli abbiamo rubato il pulmino Aspetta no mi sa che scappa Beh comunque la prima l'ha investito Va bene raga come stavamo dicendo Un saluto Un saluto E al prossimo video Whoa Wow 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 Grazie.